Rafforzamento del controllo del territorio e della videosorveglianza, l'uso di droni e fototrappole, questi alcuni accorgimenti alla base della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta alla Prefettura di Messina per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia. Hanno partecipato rappresentanti delle Forze dell'Ordine, soggetti istituzionali, statali e regionali, vigili del fuoco, capitani di Porto di Messina e Milazzo, esponenti dell'azienda Foreste De Maniale e della Protezione Civile. Il Prefetto ha ravvisato la necessità di avviare la predisposizione di un piano congiunto di prevenzione e di intervento in caso di allerte per elevati livelli di pericolosità da incendi boschivi. In quest'ottica è stato previsto il rafforzamento del controllo del territorio per elevare l'opera di prevenzione e deterrenza nei confronti dei possibili autori di atti incendiari. Queste attività saranno realizzate attraverso pattugliamento e stazionamento, nelle aree a maggior rischio e mediante la predisposizione di sistemi di videosorveglianza, l'utilizzo di droni per il monitoraggio aereo e di fototrappole. Sarà determinante l'intervento della Protezione Civile e dei volontari. In concreto è altrettanto strategico la pulizia delle fasce di rispetto stradale da parte della città metropolitana di Messina, dei comuni, dell'ANAS e del Consorzio Autostrade e poi la scerbatura e la creazione di sentieri tagliafuoco. Qui sarà importante il ruolo dei sindaci in modo da obbligare i proprietari dei fondi incolti, anche mediante interventi sostitutivi in danno, ad attuare interventi di pulizia di terreni.